E come ogni giorno guardiamo subito chi ha vinto oggi il giro da ruota a fortuna e vince Andrea, facciamo subito il G Facciamo come sempre il solito giro della ruota, vediamo quindi cosa ha vinto Andrea e vince il deltaplano di Deathstroke Ti ricordo di iscrivermi quindi su Instagram Ragazzi bentornati in questo unissimo video, io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video su Fortnite News per vedere nuovissime novità anche oggi Innanzitutto però ovviamente vi faccio gli auguri di buon inizio anno 2022 E oggi comunque andremo a vedere novità ovviamente per la crew di Fortnite, il quindicesimo regalo che presto verrà dato dal capannone al mezzo inverno e altre novità Ma per iniziare se non sei ancora iscritto iscriviti, lascia un bel like Ti ricordo qua sotto nei commenti fissati in alto tutti gli altri social tra cui Telegram, TikTok eccetera, Instagram anche E detto questo direi che possiamo subitissimo incominciare Iniziamo quindi subitissimo a parlare innanzitutto della nuova crew che è uscita oggi Infatti come potete vedere è esattamente questa, a dottoressa Sloan insomma versioni invernali Che come ben sapete poi prossimamente in teoria con l'aggiornamento 19.10 arriverà anche sotto forma di NPC Magari anche con un'arma mitico o qualcosa del genere Comunque è molto carino soprattutto il piccone devo dire che anche questo ha due varianti Skin anche questa molto molto carina e fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate Poi ovviamente c'è anche la copertura armi che ve la faccio subito vedere Esattamente questa che ovviamente è uguale i colori insomma della tuta Per quello che poi riguarda il negozio getti ragazzi vi dicevo che c'erano delle novità Infatti come possiamo vedere i cosmetici di Natale se ne sono andati mi sembra qualche giorno fa per dar spazio Ovviamente a quelli di Capodanno ma state tranquilli Infatti Fortnite Arabo nel suo account ufficiale ha pubblicato questa foto dove dice praticamente Che tutti i articoli insomma tutte skin picconi eccetera di Natale torneranno presto nel negozio getti per l'ultima volta Quindi se volevate prendere qualcosa avrete l'ultima possibilità per insomma quest'anno Esattamente domani massimo ancora dopo domani saranno di nuovo tutti quanti i cosmetici di Natale nel negozio getti Detto questo ragazzi passiamo alla news principale Infatti parliamo del quindicesimo regalo del Capannone Infatti avrete notato sicuramente tutti che se voi vi recate nel Capannone Vi appare ancora un regalo da aprire Tranquilli non è in realtà un bug È tutto normale perché infatti Fortnite come aveva già twittato precedentemente Daranno un regalo extra un regalo aggiuntivo a tutti ovviamente i giocatori di Fortnite Perché? Perché ovviamente gli scorsi giorni ci sono stati molti problemi Per svariate ore non si poteva entrare su Fortnite Quindi hanno deciso di dare un regalo extra in teoria proprio nel Capannone Invernale Infatti con un post Fortnite che vi metto magari qui alla mia destra Vedete dice proprio che ci sarà praticamente un regalo aggiuntivo nel Capannone E per quello che riguarda comunque il quindicesimo regalo Sappiamo al momento che verrà consegnato innanzitutto questa nuova settimana che sta arrivando Non sappiamo il giorno Vi terrò aggiornati comunque E per quello che riguarda il regalo che ci sarà all'interno Potrebbe essere qualsiasi cosa Ma come vi avevo già detto nel video news di ieri C'è questa skin che vi metto qui La skin si chiama Mel Come possiamo vedere è tipo una skin a tema Capodanno Tuttavia questa skin non ha il tag dei negozioggetti E come ben sapete quindi Quando una skin, un cosmetico o qualsiasi Non ha il tag dei negozioggetti Si può ottenere in un altro modo Esempio tramite sfide gratuitamente Tramite l'apertura ad esempio quindi di un regalo Come è stato per tutti i regali che avete aperto insomma nel Capannone al Mezzo Inverno Quindi per il momento non posso darvi l'ufficialità che sarà questo Il regalo che avremo Però questo cosmetico qui Quindi questa skin ha molta possibilità di essere proprio il regalo che potremmo aprire Diciamo per i vari problemi che ci sono stati ai server di Fortnite Quindi questo potrebbe essere il regalo Il quindicesimo regalo extra Tuttavia ragazzi non è ufficiale Quindi prendetelo ovviamente con le pinze Sappiate che comunque il regalo che ci daranno È sicuramente all'interno dei file di gioco Perché se no per aggiungere cosmetici serve per forza di cosa un aggiornamento E l'aggiornamento più vicino arriva non questa settimana ma la prossima ancora Quindi non credo che tardino a dare il regalo Quindi sicuramente sarà un cosmetico che è stato già aggiunto con la patch scorsa 19.01 Quindi questa ad esempio skin non ha il tag dei negozi oggetti Quindi potrebbe essere una delle probabili ricompense che ci potrebbero essere in questo regalo Tuttavia non è assolutamente sicuro Magari poi viene aggiunto il tag dei negozi oggetti E poi rilasciata magari nei prossimi giorni nello shop Quindi prendetelo con le pinze Nulla assolutamente di ufficiale Però potrebbe essere insomma una probabile ricompensa Fatemi sapere quindi cosa ne pensate Se vi piace la skin Cosa insomma pensate che possa essere il regalo che ci daranno Diciamo che questo potrebbe con molta probabilità essere il quindicesimo regalo che ci verrà dato Vedremo Nulla assolutamente di sicuro Fatemi sapere cosa ne pensate Noi ci vediamo comunque domani con un nuovissimo video Vi ricordo tutti i miei social qua sotto nei commenti Se non sei ancora iscritto iscriviti Lascia un bel like E ci vediamo domani alle 14.17 Bella Ciao 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 Ciao